per te. Scusate, a me non pensa nessuno. Tu hai tutto il resto. Va bene, dai. Siamo emozionatissimi per la nuova casa, perché abbiamo appena scoperto di aspettare un bambino. Con il bibbo in arrivo forse dovrò buttare via le scarpe e fare spazio ai pannolini. Megan e Greg sono davvero felici di abbandonare il semi interrato dei gintori per una dimora tutta loro. Hanno speso cinque...